Che tema hai scelto? Traccia B. Quella su Liliana Segre. Com'è andato? Bene, è andato bene. Soddisfatto? Sì, anche stanco. Un sospiro di sollievo appena usciti da scuola alla prima prova della maturità è andata per oltre 7000 studenti padovani che dopo due anni tornano a fare gli esami in modo tradizionale non solo con la prova orale come avevano imposto i tempi della pandemia. Esame tradizionale, sì, in presenza, non orale come l'anno scorso che hanno fatto alcuni miei compagni, amici e sì, esame tradizionale, scritto, due scritti e poi prova finale. Com'è andata oggi? È andata molto bene, ho scelto la novella di Neda di Giovanni Verga e speriamo bene, si prospera al meglio. Come hai passato la notte prima degli esami? L'abbiamo passata insieme a amici e amiche a fare un aperitivo e scacciare i pensieri. Quel che è dato e tratto, quel che è fatto è fatto. Pascoli l'autore per analisi del testo letterario con un brano tratto da Mirice e Verga con la novella Nedda. Per il testo argomentativo il tema delle leggi razziali con un brano tratto dal libro di Liliana Segre e Gerardo Colombo e poi il tema della musicofilia e il Covid e i cambiamenti climatici con un pezzo del discorso del Nobel Giorgio Parisi fatto alla Camera nell'ottobre del 2021. Tra le tracce proposte dal Ministero anche gli effetti economici della pandemia e l'uso dei social network. C'erano degli argomenti che avevamo affrontato quindi non è stato nulla fuori dalle nostre competenze insomma e niente io mi sono trovata abbastanza preparata quella sulla musica da trattare appunto in base anche alla propria personalità e interiorità. Spero bene, in teoria ho scritto cose giuste, comunque ho scelto un tema che mi interessava e che avevo approfondito anche a caso singolarmente quindi in teoria dovrebbe essere andato bene. Ho scelto il tema scritto da Liliana Segre che prende i temi delle leggi razziali e della Shoah, devo dire molto interessante.